Paolo Costantini da un paio di settimane è il nuovo presidente dell'Apotel, degli albergatori di Pesaro. Dopo otto anni di presidenza di Fabrizio Liva, immagino sia motivo d'orgoglio ma anche di responsabilità per una categoria centrale nell'economia pesarese. Sì, sicuramente motivo d'orgoglio perché ho visto molta partecipazione da parte di tutti gli associati e motivo di responsabilità perché di attività e di cose da fare ce ne saranno e ce ne sono, ce ne saranno molte. Quello che è venuto fuori dall'Assemblea è sicuramente la voglia di collaborare con l'amministrazione comunale e di portare avanti i vari progetti. Quali sono i punti di continuità con il lavoro precedente e quali invece gli obiettivi di novità? I punti di continuità sono molti perché sono attività già avviate dal presidente Oliva e dal precedente direttivo. Mi viene in mente ad esempio la questione dei parcheggi sul lungomare piuttosto che la necessità di dover trovare un decoro a tutto il lungomare, cosa che magari negli anni passati vuoi anche per una problematica legata alla pandemia degli ultimi due anni è stata un po' rallentata e un po' raffazzonata. Sulle novità il direttivo si riunirà giovedì di questa settimana e proporremo nuove idee e nuove iniziative che poi renderemo pubbliche dopo il direttivo. La movita di Viale Trieste per noi albergatori è stato un problema perché comunque è bene animare il lungomare, è bene che ci siano persone però le regole vanno rispettate. Quest'estate probabilmente si è andato un po' fuori delle regole e quindi si sono creati dei problemi, soprattutto in alcune aree ben circoscritte e ben individuabili. Per quanto riguarda invece la pedonalizzazione, siamo favorevoli in ordine generale alla pedonalizzazione e probabilmente va concordata meglio anche in ordine alla possibilità di lasciare dei passaggi per i turisti che poi devono arrivare negli alberghi perché quest'anno qualche problema c'è stato e quindi probabilmente va definita meglio, non che non ci sia ma meglio definita. La zona di Levante è quella che ad oggi soffre maggiormente dal punto di vista della riqualificazione. Ci servono tante cose da fare, ad esempio sfruttare meglio piazzale d'annunzio e sfruttare meglio la fine del viale verso Fano sotto l'hotel Alexander. Sono tutte zone che ad oggi soffrono sia per viabilità sia per parcheggi ma anche come attività. Si sta parlando da anni della sistemazione del fiume lì di Levante, si sta parlando da tempo della riqualificazione di piazzale d'annunzio. Sono tutti temi che in continuità, a proposito di continuità della precedente presidenza, porteremo avanti cercando di ottenere i maggiori risultati.